Asti Gancia presenta Eleonora Rossi Drago e Tony Ucci in Ottimismo. Che brutta cosa non essere ottimisti. Vedere nero ciò che è rosa, grigio opaco ciò che è splendente, luminoso. Io quando incontro un pessimista non posso fare a meno di aiutarlo. E quanti se ne incontrano? Buonasera. Buonasera. Prego. Non è un po' triste questo vostro locale? Ma è pittoresco. Beh, io direi deprimente. E quello chi è? Come non lo riconosce, è Pino Destino, il grande cantante, improvvisa tutte le sere per i nostri clienti. Ogni effimera gioia sarà presto svanita e i sospiri d'amore sono solo squallore, squallore. La signora desidera ordinare qualcosa? Certo, una buona bottiglia di Asti Gancia, ci vuole proprio. E poi desidero parlare con quel giovanotto lì. Subito, signora. Dica, signora. Dica lei, perché ogni effimera gioia sarà presto svanita? Ma così? E perché i sospiri d'amore sono solo squallore? Perché, bu? Non lo sa, l'avrei giurato. Così come non sa di essere un elemento molto pericoloso. Lei con i suoi brutti versi diffonde il pessimismo. E adesso ascolti bene. Si tolga quegli occhialoni neri. E sorrida. Dica al proprietario di accendere i modi. Sono felice se mi baci tu. Questa è la felicità. Bravo, ha visto che è successo? I versi sono sempre brutti, ma almeno sono ottimisti. E dica, non è più contento anche lei? Non è bello diffondere un po' di ottimismo? Si. L'ottimismo è indispensabile. È il segreto per vivere lietamente. Ottimismo ci vuole. Ottimismo è un bel brindisi con Asti Gancia. Con Asti Gancia again, brindi più allegramente. E ti senti in cuor tanta felicità. Con Asti Gancia again, brindi e sei più felice. Ti senti riscaldar da questo brindisi again. Nelle vostre ore liete, brindate Gancia.